Salve, sono Antonella Romanini, sono un'oncologa a Pisa, ma sono anche la presidente dell'Associazione Contro il Melanoma e in questa veste frequento questo corso per dare voce ai pazienti che subiscono dei disagi per il fatto di non poter esprimere le loro istanze alle autorità regolatorie, all'industria farmaceutica e anche per aiutarli a dialogare tra un'associazione e l'altra e tra loro. Questo corso di Eupati è ormai giunto al quinto modulo, devo dire l'ho frequentato con grande interesse, le informazioni che ho ricevuto non erano proprio così chiare nel mio corso di laurea e anche nel corso della mia pratica clinica, quindi ho imparato molto e credo che le lezioni fossero tutte a un ottimo livello, che ci hanno consentito di imparare moltissimo e soprattutto a me hanno dato l'opportunità di conoscere tantissime persone molto motivate che fanno la loro missione di rappresentare pazienti con grandissimo interesse. L'associazione di pazienti Eupati Italia ha fatto un grosso lavoro per cercare di portare l'informazione sulla ricerca e sviluppo dei farmaci a tutti i pazienti che ne necessitano e li ringrazio. Grazie.